Ciao raga, benvenuti nel mio canale, io sono Dani, di nuovo dal mio angolo cucina E che cazzo facciamo oggi raga? Oggi facciamo il Ghost su Moonprek E andiamo subito a sentire Il beat preso da Vagate Minis Everything Perfegno dalla fine In tribunale a fare guerra con lo Stato ho l'avvocato più forte No, 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 no Andiamo indietro subito Per una chiamata facciamo 100 persone Io ho il Kalashnikov, ce l'ho sotto a letto I'm fire, nessuno mi può toccare E' bello Yeah, ma nika, 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 io sono l'unico che ho perso Ho vissuto coi nika in mezzo all'Italia Cresciuto in guerra e quindi sono pronto a combattere Cioè, sono un combattente, non hai poche parole Io sono, ho vissuto nella trap, quindi è la trap che porto Una cosa negativa che non volevo neanche dire Dice, però loro hanno cercato di uccidermi Ma la mia famiglia era con me Dice che non ha bisogno di fare il dissing per diventare famoso Che molte persone puntano a quello Come trampolino di l'altro Che non ho vissuto in confediato Di quello che mi ha bisogno di fare in questa In questa camera, la mia famiglia è una Passiamo al Barselone Di Breseto con una violenza A non racconti, la mia famiglia è una Per una maniera, non sono l'ha Questa non è la produzione La mia famiglia è una regla La mia famiglia è una regla Non ha di raggiare L'agra del mondo Non ho vissuto a farra 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 Il regla è una maniera Questa non é la queen Allora secondo me questo video raga è fatto veramente bene Cioè non è un video chissà cosa con macchine roba e sai posti assurdi È in un appartamentino però gli effetti tutte queste stronzatine è così che spacca Questo è per tutti i miei fans, dice, che mi supportano E spaventate che cazzo ho detto Ah per tutti quelli che mi danno supporto e stanno credendo in me Se volete altra merda su youtube state online dice State online Ha vinto l'ero in che mood caro, era tutto oscillato, grande Allora raga questo beat secondo me è Infatti stavo pensando anche di scriverci una cosetta sopra Quando ho sentito Che è potentissimo il beat Cioè ti ispira proprio a scrivere E niente abbiamo fatto il ghost nuovo talento albanese Kosovaro che è sempre albanese Però sto facendo una cosa che non fanno in tante albanese In Italia, lui fa rap in italiano come ho già detto in un'altra reaction di Real Talk Fa rap in albanese, fa tutto in qualsiasi lingua Spacca in ogni lingua Grande ghost Ragazzi se vi è piaciuto questo video mettete like al video Appunto se vi è piaciuto no? Commentate se avete domande qua Se vi staggono dappertutto dove cazzo volete Noi ci vediamo alla prossima E non dimenticate di fare subscribe al canale Yeah